dei trattati dell'Unione Europea e della CEDU. L'articolo 1 del Codice del processo amministrativo afferma che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo. Questa nozione quindi ricomprende il diritto comunitario e anche il sistema fondato sulla CEDU. Il riferimento al diritto comunitario concerne i trattati europei modificati da ultimo dal Trattato di Lisbona. Infatti il TUE richiama all'articolo 6 la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, definita anche Carta di Nizza, assegnandole lo stesso valore giuridico dei trattati. La Carta afferma i principi importanti sul rapporto tra il cittadino e l'amministrazione comunitaria e in particolare l'articolo 47 stabilisce che ogni persona ha diritto che la sua causa venga esaminata equamente, pubblicamente, entro un termine ragionevole e da un giudice indipendente, imparziale ed precostituito per legge. Gli interventi comunitari infatti hanno influito fortemente sulla nostra giustizia amministrativa e basti pensare alle direttive che hanno imposto al nostro Paese il risarcimento dei danni in materia di appalti pubblici, poiché hanno aperto una breccia nel nostro ordinamento che escludeva un risarcimento in tema di interessi legittimi. Tuttavia la Corte di Giustizia Europea non sembra definire in modo organico la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. A questo quadro comunitario si aggiunge il sistema della CEDU, il cui rilievo è cresciuto poiché la Corte Costituzionale ha affermato che la sua violazione può essere motivo di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, il quale impone al legislatore nazionale e anche regionale di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Inoltre il giudice nazionale deve basarsi sulle interpretazioni accolte nelle procedure della Corte della CEDU. Inoltre abbiamo di fondamentale importanza l'articolo 6, il cui contenuto è analogo all'articolo 47 della Carta di Nizza poiché viene riconosciuto il diritto ad ogni persona ad un processo equo i cui canoni sono stati recepiti nel 1999 nel nuovo articolo 111 della nostra Costituzione mediante il giusto processo. Infatti la CEDU riconosce il carattere del giusto processo anche per quanto concerne le controversie contro la pubblica amministrazione, ad esempio in materia di esproprio ed ha chiamato la tutela in questi casi affermando che la tutela possa estendersi anche per quanto riguarda, quanto concerne gli interessi legittimi. Parlando ora dei principi costituzionali in generale possiamo affermare che i primi articoli del codice del processo amministrativo nell'enunciare i propri principi generali della giurisdizione amministrativa richiamano una serie di principi costituzionali evidenziandone la rilevanza come criteri di interpretazione del codice del processo amministrativo e quindi in particolare negli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione concernenti la pienezza e l'effettività della tutela, la parità delle parti, il giusto processo e la garanzia del contraddittorio. Oltre al principio del giusto processo che dopo analizzeremo nel dettaglio, altri principi rilevanti possiamo desumerli dall'articolo 3 quali l'eguaglianza e la ragionevolezza in applicazioni con la garanzia per la tutela dei non ambienti ex articolo 24. Inoltre le principali disposizioni che attengono alla tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione possono essere articolate in disposizioni sul giudice, disposizioni sulle azioni e disposizioni sull'assetto della giurisdizione. I principi sul giudice. La Costituzione considera come valori essenziali rispetto alla figura del giudice l'imparzialità e la terzietà considerati all'articolo 111,2 quali componenti del giusto processo. Questi valori sono generali e attengono anche alla giustizia amministrativa. In aggiunta abbiamo l'indipendenza sancita dall'articolo 104 il quale prevede l'indipendenza del giudice ordinario stabilendo che la magistratura è un ordine autonomo. Dato che i giudici amministrativi non sono soggetti al Consiglio Superiore di Magistratura, l'organo di autogoverno dei soli magistrati ordinari, presso il Consiglio di Stato è stato ammesso istituito un apposito organo di autogoverno per i giudici amministrativi, cosiddetto Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, le cui competenze sono state definite con la legge 186 del 1982. In analogia per quanto previsto per il Consiglio Superiore di Magistratura fanno parte, oltre al Presidente del Consiglio di Stato ed altri giudici amministrativi disegnati dal TAR e dal Consiglio di Stato, anche alcuni cittadini. Sulla scorta di tale norma vi sono stati istituiti diversi interventi della Corte Costituzionale sui singoli istituti di giustizia amministrativa. In primo luogo il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale rispetto a quella cautelare, poiché la garanzia del diritto d'azione comporta anche la possibilità di chiedere al giudice amministrativo delle misure cautelari per evitare che la durata del giudizio produca un danno irreparabile per il cosiddetto ricorrente. Il ricorso al giudice amministrativo di regola non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, tale sospensione infatti è ottenibile su istanza di parte per evitare un pregiudizio grave ed irreparabile. Nel caso del processo amministrativo la Corte ha valutato con rigore gli interventi del legislatore che limitavano la possibilità di una misura cautelare. Questo concetto è stato sancito soprattutto da una sentenza, della sentenza 284 del 1974, sottolineando la necessità di una ragionevole giustificazione per la dicitura di una misura cautelare. Inoltre vi è il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale in materia di pubblico impiego, poiché la Corte ha voluto assicurare ai dipendenti pubblici una tutela equiparata ed anche equipollente a quella ammessa per i dipendenti con rapporto di lavoro privati, riferendosi quindi ai principi dettati dall'articolo 3 e dall'articolo 24. Come terzo principio fondamentale troviamo il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale e i limiti della cosiddetta giurisdizione condizionata. Per giurisdizione condizionata si intende l'accesso alla tutela giurisdizionale subordinato al previo esperimento di un ricorso in via amministrativa. Questo comporta l'esecuzione di una immediatezza della tutela giurisdizionale e c'è stata una forte evoluzione della giurisprudenza a riguardo. Infine, come quarto principio, troviamo il principio dell'effettività della tutela giurisprudenziale e subordinazione della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi al previo compimento di un procedimento amministrativo. Infine, troviamo l'illegittimità dell'arbitrato orbiteratorio poiché il nostro ordinamento ammette che le parti possano convenire che un'avvertenza sia decisa da arbitri anziché da giudice per quanto concerne i diritti soggettivi. Vi deve essere però un accordo tra le parti di natura contrattuali. Le disposizioni che prevedono un arbitrato obbligatorio furono dichiarate illegittime poiché in contrasto con l'articolo 24 che garantisce l'accesso alla tutela giurisdizionale con anche riferimento agli articoli, all'articolo 102. Analizzando invece il giusto processo, principio dettato dall'articolo 111, primo e secondo comma, la giurisdizione amministrativa deve garantire una tutela piena ed effettiva come citato all'articolo 1 del codice del processo amministrativo. Il codice richiama fondamentalmente i principi del giusto processo che sono appunto dettati dall'articolo 111 della nostra Costituzione. Nel comma 1 viene affermato che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità davanti al giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata, come viene affermato nell'articolo 111,2. Il processo amministrativo deve porre quindi in essere e quindi attuare codesti i principi. Una delle componenti del giusto processo è il principio del contraddittorio che si esprime nella regola secondo cui il giudice non può statutire sulla domanda se le parti nei cui confronti è proposta non siano state regolarmente evocate in giudizio e se ogni parte non sia stata posta nelle condizioni di interloquire su ogni questione rilevante per la decisione della vertenza. Quindi ha una portata generale e prescinde dalla posizione processuale. La garanzia del contraddittorio è anche completa mediante il principio di parità processuale delle parti con una disposizione degli stessi strumenti di tutela. I citati principi sono funzionali al diritto di difesa e anche funzionali a un corretto esercizio del diritto d'azione. Nel processo amministrativo il principio del contraddittorio nella sua portata generale è parso talvolta in conflitto con l'esigenza di rendere più spedito il giudizio. Infatti vi deve essere un bilanciamento tra la garanzia del contraddittorio e l'obiettivo di celerità del giudizio, il quale obiettivo assume particolare importanza ed un rilievo anche costituzionale come componente essenziale del principio della ragionevole durata, sempre in riferimento all'articolo 111 della nostra Costituzione. Oltre che per ragioni costituzionali vi sono degli importanti obblighi internazionali, infatti il nostro legislatore è intervenuto con delle misure di accelerazione del processo, ha previsto infatti in alcune materie sia dei reti speciali, acceleratori o abbreviati e ha ammesso la previsione di anticipare la decisione del ricorso già nella fase cautelare. In questo caso il giudice amministrativo può decidere l'avvertenza anche prima che siano scaduti i termini ordinari. Per evitare comunque una compressione del diritto di difesa, l'articolo 60 del codice del processo amministrativo stabilisce che il collegio, se ritiene di pronunciarsi sul merito del ricorso già nella fase cautelare del giudizio, deve sentire sul punto le parti costitutive. Inoltre, sempre sancito dall'articolo 60 del codice del processo amministrativo, viene stabilito che se un ADS dichiarasse di voler presentare ad esempio un ricorso incidentale, deve rinviare la decisione assegnando un termine per le parti, proprio perché la celerità della definizione del giudizio non può assolutamente in alcun modo sacrificare i contenuti fondamentali della tutela giurisdizionale. Quanto concerne invece i principi sull'azione, si fa riferimento all'articolo 113 della nostra Costituzione. Questa disposizione è infatti detta una serie di disposizioni riguardanti la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. La circostanza che una pubblica amministrazione sia parte in causa e quindi un soggetto pubblico partecipe alla causa esclude qualsiasi e ogni forma di privilegio processuale a suo favore. Nel comma 1 si assicura la tutela giurisdizionale che prescinde dalla differenzazione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Nel comma 2 si afferma che la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. Al comma 3 invece si afferma che la legge determina quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica amministrazione. In definitiva è la legge che si riserva il potere di individuare quali giudici dispongano di tale potere e in quali casi. Di conseguenza il giudice potrà sì annullare ma anche solo disapplicare un atto amministrativo. Per quanto concerne invece i principi sull'assetto della giurisdizione amministrativa, la Costituzione oltre a recepire la distinzione tra delitti soggettivi e interessi legittimi ha sancito la regola del riparto tra giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Infatti dopo aver richiamato il ruolo del Consiglio di Stato come organo di tutela della giurisdizione amministrativa come si fa riferimento all'articolo 100 della nostra Costituzione, ha affermato il ruolo del Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa, quindi TAR, come giudice per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge dei diritti soggettivi. Dunque la giurisdizione sugli interessi legittimi ha carattere generale e il Consiglio di Stato e il TAR sono dei giudici naturali degli interessi mentre la giurisdizione esclusiva è tassativa. La Corte Costituzionale infatti richiamandosi all'espressione particolari materie ha ribatito che la tutela dei diritti soggettivi anche nelle vertenze con la pubblica amministrazione spetta di regola al giudice ordinario. Infatti l'assegnazione di una controversia della giurisdizione esclusiva non può trovare fondamento nella mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio né in un generico pubblico interessere ma deve trovare fondamento nel collegamento tra la materia in cui inserisce l'avvertenza e la posizione di potere della pubblica amministrazione. Oltre al Consiglio di Stato l'articolo 103,1 menziona anche gli altri organi della giustizia amministrativa ossia il giudice amministrativo di primo grado cosiddetto TAR. L'articolo 125 dispone che la giustizia amministrativa di primo grado abbia un'articolazione territoriale regionale, infatti nelle regioni sono istituiti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado e la competenza per i giudizi si ripartisce tra i TAR sulla base del criterio territoriale poiché la legge lo prevede. L'articolo 111 inoltre prevede nel comma 8 che contro le decisioni della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato sia ammesso il ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione. Infine possiamo dire che per le sentenze degli altri giudici diversi dal Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione è ammesso anche per la violazione della legge. La giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione. Dopo la legge di abolizione del contenzioso amministrativo e fino all'istituzione della quarta sezione, il problema dei limiti della giurisdizione...